Dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo che ha illuminato di blu il castello di manovra, alla statua di Guido Monaco e il Palazzo di Cortona, i monumenti e i simboli di Arezzo e provincia si tingono di blu nella notte tra il primo e il due di aprile perché questo è il colore che ricorda la undicesima giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Malattia per la quale al momento non esiste una cura specifica, solo in Italia colpisce tra le 300 e le 500 mila persone, circa il 5% dei nuovi nati è autistico. Nel 2017 nella ASL Toscana Sud-Est sono nati 82 bambini affetti dallo spettro autistico, 34 ad Arezzo, 29 a Siena, 19 a Grosseto. L'associazione Autismo Arezzo, nata nel 2015 che nel 2018 ha inaugurato la sua nuova sede in Via Ticino, prova a mettere insieme famiglie, ragazzi e istituzioni per vincere tante battaglie. La prima un mondo più inclusivo. Deci anni fa non si parlava in televisione di autismo, io mi ricordo che ero barricata in casa a piangere sulla condizione di mio figlio, adesso grazie a Dio non è così, grazie anche al mondo associativo, al terzo settore che si sta dando molto da fare. Tante le iniziative del Mese Blu Arettino, iniziato con la proiezione del docufilm Tommy e gli altri. Il prossimo 6 di aprile arriva ad Arezzo Roberto Vecchioni e l'8 di aprile nella sede dell'associazione ci sarà un convegno sul delicato tema della sensorialità.